Innanzitutto volevo ringraziare gli sponsor Corsair, MSI, Chip Computer, Associazione Culturale e BigGamer.net, e me il presidente Greenface, per lui Giannini non è potuto venire. Ringrazio tutti per essere venuti qui, un particolare ringraziamento anche alla Wargaming. Questo è torneo dedicato alla memoria di Francesco Ferrara, che è Banana Joe. Siamo qui riusciti a portare il papà, che è anche lui un giocatore di Banana Joe, che a Riede anche lui gioca con noi. Con questo è un piccolo onore che potevamo fare a un giocatore che è stato sempre con noi e ha sempre dato qualcosa di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.